In che modo si poteva capire di cosa muoiono le colonie utilizzando i dati del progetto, sapendo che c'è stato un follow-up di tre anni e mezzo, quindi un monitoraggio consistente. La procedura si è basata su questo quesito. Se si attesta la morte di una colonia, ma si hanno dei dati sul suo stato nelle visite precedenti, si possono trarre delle conclusioni sulle cause. Qui vedete l'esempio di alcuni alveari in Italia, quindi in rosso, trattato con apiva e con asportazione di covatti in verde. E vedete appunto tutti i dati, avete la mortalità e poi avete la curva di mortalità. Quindi in ogni momento in cui si constata che una colonia è morta, si può tornare indietro per cercare di capire in quali condizioni ci è avvenuto, cioè qual era la sua popolazione prima, quindi prima che morisse. E per fare questo studio abbiamo considerato in tutto il processo soltanto le colonie che quindi c'erano già sin dall'inizio del progetto, quindi gli alveari transumanti, gli alveari nomadi. E li abbiamo accompagnati, per così dire, nel senso che a partire dalla loro data di morte abbiamo fatto un percorso a ritroso per cercare di capire le cause di questo decesso. Quindi per elaborare tale quesito abbiamo messo appunto un indice, cioè perché non è facile capire come si costituisce un alveare, come evolve. Abbiamo creato un parametro e un indice per capire che se appunto si viene accertata la morte di un alveare durante una certa visita a X, si prendono in considerazione i suoi parametri durante le tre visite precedenti e si considerano tre variabili. Il numero di api, il numero di celle di covato per colato e il numero di varo a foretiche. E quindi poi possiamo fare un confronto per ogni visita per quella alveare considerato, un confronto tra il valore delle prime tre variabili dell'alveare considerato con la media per le stesse variabili di celle di alveari vivi nelle stesse date. In questo modo si può appunto fare un calcolo rispetto a ogni visita. Per semplificare l'analisi si considera poi la somma di questi tre indici ottenuti e questo è stato applicato a tutti gli alveari morti durante il periodo di analisi dello studio in ovapi. Quindi tre anni abbiamo seguito, vale a dire, 216 alveari, 216 colonie. Una volta messo a punto e calcolato questo indice bisogna interpretarlo. Quando questo indice è negativo, ma torno un attimo indietro, cosa significa? Significa che la quantità di api dell'alveare morto è inferiore rispetto alla quantità media delle api negli alveari vivi. Quindi si ha da un punto di vista delle api un indice negativo. Cosa significa? Significa che gli alveari hanno meno api, quindi se questo indice che viene attribuito agli alveari morti genera un indice negativo. È una circostanza che può spiegare lo stato della colonia che muore nella stagione successiva. Invece nel caso della varroa, se la colonia ha più varroa della media, allora anche qui questa condizione può spiegare o comunque può essere caratteristica del fatto che poi successivamente morirà durante la visita successiva. Quindi abbiamo così un pochino valutato, giocato per così dire con questi indici negativi che devono essere quindi negativi e positivi per la varroa. Quindi abbiamo aggiunto un quarto che è l'età della colonia, un altro criterio. Ma vi faccio vedere adesso un'analisi multivariata e multifattoriale che riguarda proprio questi quattro parametri. Andiamo ad analizzarli in base a un piano organizzativo di correlazione. Cosa vediamo innanzitutto? Innanzitutto vediamo che le api che sono morte sono fortemente caratterizzate da un delta. Quindi l'indice di covata di api rispetto all'età che è molto negativo. Quindi gli alveari che muoiono sono contrassegnati da un delta di varroa molto positivo dall'altra parte. Ma la cosa più interessante in questo grafico a torta è che la direzione di queste variabili è perpendicolare. Quindi quando si analizzano delle correlazioni il fatto che questi assi siano perpendicolari significano che non sono collegati tra di loro. Anzi si potrebbe quasi concludere che sono indipendenti. Quindi in un certo modo quando si considera la mortalità delle colonie c'è una indipendenza tra il fatto che una colonia muore poiché l'evoluzione della sua popolazione e anche la porta a scomparire o perché è penalizzata dalla varroa. Se osserviamo più da vicino la proiezione di ciascuna di queste colonie morte e l'evoluzione delle colonie vive su il piano che viene realizzato grazie alle variabili. Qui vedete la variabile varroa e qui vedete le altre variabili riguardanti la popolazione. Che cosa si osserva? Ci si rende conto che in realtà esistono delle caratteristiche. Gli alveari in blu sono quelli vivi. Gli alveari invece in rosa sono quelli morti in stagione. Quindi tra aprile e agosto. E gli alveari verdi sono quelli morti tra settembre e marzo. Quindi l'inverno quando parlo di stagione intendo le tre stagioni studiate dai novapi e per inverno i tre inverni. Quindi quello che si osserva è che si può considerare che in un certo qual modo nessun alveare che muore ha un indice di varroa inferiore a quello di alveari vivi. Cosa significa? Significa che tutti gli alveari morti hanno un delta di varroa, quindi una sovra infestazione rispetto agli alveari viventi. E c'è anche un'altra tendenza che si può dedurre sul fatto che c'è una tendenza, salvo eccezioni, si tende a considerare, salvo eccezioni, che gli alveari in rosa siano piuttosto allineati rispetto a quelli in blu, siano allineati all'indietro. Quindi quelli che muoiono in stagione muoiono per una mancanza di evoluzione della dinamica di popolazione, mentre quelli che muoiono in inverno tendono ad essere attirati e dispersi dalla variabile varroa. Questo sembrerebbe testimoniare che le colonie che muoiono in inverno tendono a morire a causa di un eccesso di infestazione da parte della varroa. Ma guardiamo l'evoluzione nel corso del tempo, quindi un sguardo più ampio. Abbiamo visto anche l'evoluzione dell'indice di covata, quindi su appunto il J-3-2-1 e anche la data di morte accertata dell'alveare. Se consideriamo la linea mediana qui, che può essere letta non tanto come la media del processo, ma la probabilità del processo, si ha l'impressione che la morte che interviene in stagione, quindi tra marzo e agosto, essenzialmente sia visibile nelle evoluzioni delle popolazioni, soprattutto della covata, nella penultima data prima della morte. Mentre se guardiamo il periodo P2, vediamo, e si ha l'impressione che ci sia una decrescita della covata negli alveari che moriranno, che è già percepibile già tre visite prima della morte, quindi già in settembre per dire. Quindi il fatto che una variabile contribuisca alla mortalità in modo più o meno marcato e possa provocare quindi un tempo più lungo o una morte più veloce può anche darci delle chiavi di lettura più precise rispetto alla causa della morte. Io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile per le vostre domande, se ne avrete.